Salve amici del canale, come tutti sapete viviamo in un mondo abbastanza tecnologico dove ormai inviare cartoline e messaggi via lettere è diventato difficile, se non difficile poco usato, inconsueto, quasi una stravaganza. Mi ricordo che anni fa quando non c'era internet i vari social, si mandavano le cartoline, le lettere, gli auguri, oggi invece è tutto elettronico. E' bello mandare qualche immagine, però possiamo mandare immagini normali noi che siamo portati verso una stravaganza artistica? Assolutamente no, quindi le cartoline anche in questo caso ce le dobbiamo fare da noi, quindi cosa fare? Queste sono delle cartoline che ho fatto io, un altro genere, naturalmente non sono delle istantanee fatte al momento, però possiamo fare degli acquarelli in formato cartolina e poi spedire i nostri amici, eccetera. E naturalmente è una cartolina che viaggia, specialmente un nostro disegno, un nostro acquarello, una nostra cosa personale, con un timbro dietro, acquista una storia tutta sua, tutta particolare, no? Viaggia, per cui passa di mano in mano, ha una sua storia che potrebbe essere anche così interessante. Facciamoci un acquarello molto semplice, giusto per avere un'idea di quello che vorremmo fare. Quindi ci squadriamo il nostro foglietto e questo vi già probabilmente è il formato cartolina. A noi interessa poco, anche se è leggermente più grande, non ci interessa, insomma, alla fine quello che ci interessa è fare una cosa particolare. Quindi, ora sono stato qui sopra stamattina vicino a casa mia, a Campiglia Marittima, e c'era una luce particolare, insomma, si vedeva un bello sfondo, un bel panorama, ma quasi quasi me lo rifaccio. E quindi è molto semplice, ve lo faccio in un attimo, per cui non c'è bisogno di fare grandi cose. È uno scorcio sempliciotto, semplice, non c'è bisogno di fare grandi elaborazioni colline grafiche. Qui c'era un grande albero e qui c'era delle fronde di alberi un pochino più piccole. E qui in lontananza delle colline che si gradavano, probabilmente questo è il promontorio di Piombino, forse, forse addirittura potrebbe essere risolato, ma non è dato di capire bene che la foschia c'era da mattina presto. E qui c'è il paese, come ho detto, è leggermente in pendenza, in un piano e qui siamo un po' sopraelevate. La realizzazione è molto semplice, non ci vogliono grandi capacità. Allora, procuratevi naturalmente un bicchiere di acqua, qualche traccio, qualche cosa assorbente, va benissimo, della carta qualsiasi, e i vostri acquarelli. Un foglio di carta bianco per fare le prove eventualmente del colore e i vostri colori su questo. cosa usare? Usate quello che usate di solito, non c'è bisogno di fare grandi scelte particolari, quindi. Allora, una cosa che invece è importante è la possibilità di poter asciugare velocemente in vostra acquarella, anche se è molto piccola, però comunque. Ora, ci sono degli asciugacapelli che funzionano a 12 volte, questo è molto piccino, come vedete, quindi se avete la macchina vicino, potete attaccare la presa allie, l'accendi sigla, lasciate il motore in moto, perché se no mi scarica la batteria, perché anche se è piccolo, comunque mi porta via un bel po' di amperaggio, per cui, se no, lo mettete un attimo al sole e quindi asciuga la svelta. Se invece siete in casa, come sono adesso, usate un classico asciugacapelli, oppure uno sverniciatore, insomma, quello che vi torna più comodo. Quindi, ora prendo il mio, ecco, il mio forno, che è uno sverniciatore al momento, il forno lo lascerò in un'altra parte. Comunque, beh, non cambia niente. Allora, facciamo un acquarellino, semplicissimo. Allora, diamo un po' d'acqua qui, sulla parte che sarà il cielo e quindi, siamo al posto, inumidiamo soltanto la parte che ci interessa. Ora qui, come vedete, i colori sono secchi, quindi potete fare benissimo. Questa, naturalmente, è per chi non ha grandi dimestichezze, sennò è prassi normalissima, è quella di inumidire i colori. Se non volete usare il pennello, perché sennò si sporca e si inumidisce troppo tutto, ci sono degli attrezzi più idonei. Potete usare tranquillamente una pompettina riempita di acqua e quindi qualche goccia sui vostri colori e siate immediatamente operativi. Allora, il pennello, usate quello che volete. Ok, allora. Ecco qua. Non c'è bisogno di fare grandi cose, quindi siete già al posto. Ora, se volete fare delle nuvolette, qualche cosina più particolare, è abbastanza semplice. Prendete un pezzo di carta, un fazzoletto e tamponate, dove volete, a creare delle nuvolette. Se poi volete rinforzare un po' il colore in alto, ecco, è abbastanza facile. Se tamponate vi dà un effetto più simpatico. Comunque, non è necessario naturalmente. Fate come vi pare, secondo come il cielo, come l'avete visto, come lo volete interpretare. A questo punto, sono a posto. Ora, asciughiamo. Ora, prepariamo il fondo. Cioè, lo sfondo, no? Il fondo inteso come fondo. Quindi, prendiamo un po' di chiola che lo andiamo a posizionare proprio sullo sfondo. Ecco, guardateci i due colpetti, in modo da non fare una cosa tutta unita, che insomma, sennò sarebbe troppo pacchianotta. E qui è a posto. Ora, andiamo con un piano più ravvicinato. Non c'è bisogno di fare campiture molto ampie. Basteranno delle macchie. Per cui, ecco, non fate una verriciatura veloce, ma macchioline. In modo che si possano interpretare come campi, come avvallamenti, eccetera. Ora, andiamo un pochino più in avanti. E qui è vegetazione. Allora. Ecco, fatto. Diamo già una rifinitura alla nostra vegetazione. Considerate che, primo piano, quindi se la luce viene da questa parte, non l'ho detto, non lo so, essendo mattina, e qui siamo sud. Ecco, qui facciamo un po' di recitazione. E quindi questa parte qui è leggermente più in ombra. E noi la evidenziamo. Diamo un'asciugatina, veloce. E veniamo sempre con il piano più ravvicinato. Questa era terra, semplicissima terra. E qui veniamo ancora più in avanti e vediamo una sporcatina di verde. Era un po' di visitazione incolta, niente di straordinario, però comunque va evidenziata un po'. Ecco, fatto. E' un appunto, una specie di, qualcosa di istantanea del posto, del momento. Ora, diamo un'altra asciugata. Ora, presentiamoci con l'albero. Allora, un po' di verde. Andiamo a fare questo albero. Naturalmente la parte in luce sarà più chiara e quella sotto sarà mediamente più scura. E qui, lì. Ora, qui ci diamo un po' di ombra. E qui andiamo a rifare un po' di... E qui andiamo a rifare un po' di... E qui lo stesso andiamo a far intravenire un po' di vegetazione un po' più chiaro, un po' più luminoso. Ecco. Ok, adesso ci siamo quasi. E andiamo a rifinire un po' di sfondo. E qui... Andiamo a rifare un po'... qui è questa velocitazione, niente di straordinario, questo qualche colpetto qua e là, a posto. A posto, a posto, a posto. Poi giù possiamo fare una leggera colorazione. Ecco fatto. Ora qui, che c'è il paesino, diciamo, ai piedi di questa collinetta, possiamo evidenziarla ma leggera, 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 perché se no poi stona un po', aggiunto qualche tocco di colore per dare proprio l'idea di un qualcosa. Allora, un'ottima di rosso per fare qualche tetto, qualche cosa, per vedere che ci sia... asciugiamo il tutto. Praticamente il lavoro è finito. Ora lo asciugo completamente. Quindi, levo un po' di roba di mezzo, buttato su tutto. e separiamo il nostro foglietto dal resto del blocchetto. Come si fanno questi blocchetti, diciamo sì, l'ho già fatto vedere altre volte, per cui, se vi interessa, se proprio siete curiosi di vedere come, lo potete trovare tra i miei video. E' abbastanza semplici. E' abbastanza semplici. Ecco. E questo è pronto. Quindi, vi scippate la vostra firma. come era una volta, vi ricordate, no? Qui ci si metteva, qui c'era il francobollo, andava il francobollo, vi ricordate, no? con una faccina, con un personaggio, e poi, indirizzo, uno, due, tre, e qui c'era il vostro... ecco. Ok. Ecco. Alla prossima. Ciao.